Lavoro, lavoro è lavoro, perché la crisi ha assunto un profilo, un impatto. Noi siamo seduti su una polveriera sociale, o ce ne rendiamo conto e assumiamo delle logiche conseguenti di carattere, qui uso io il termine, emergenziale, anche a partire dalla legge di stabilità, anche con un atto di discontinuità che questo governo deve introdurre, oppure non abbiamo chiaro qual è la situazione reale del paese, dove milioni di persone, di famiglie e centinaia di miliardi di imprese, di commercianti, di artigiani, semplicemente non riescono più a leggere l'unico della crisi più grande. Grazie a tutti!